20 partecipanti, 20 persone che ci hanno seguito, non è poco. Abbiamo in mente questo concetto, dalla finestra si guarda quello che c'è fuori, e da fuori si guarda quello che c'è dentro al palazzo. Quando racconti fuori di cenere, noi nel nostro condominio, l'attitudine la facciamo da soli, cadono tutti dalle nuove. Grazie a tutti i telespettatori, anche per questa sera da Teletore19 è tutto. Grazie a tutti.